Se vede il puto chiamava polizia, eh? Sì, così per quando arriva c'è la profe del posto. Ora che si fa male, regà, manda voglia una mano. Oddio, lo trovino. Ma non passa, passa. Aspettiamo, quando arriva questa sorpresa. Martinelli, vieni in casa, ti devo interrogare. Cappiamo lo scrutino alle tre. Vabbè, non è che puoi passare più tardi, ci siamo dovuti parlare. No, non si può. Martinelli, scendi. No, forse non hai capito, per questo punto. Ma regà, non la voglia di dare una mano. Per cui tu ripeto un'altra volta, te ne devi dannare. Se permetti, Martinelli ha delle cose importanti da dire anche a me. Cose che riguardano la scuola, la cultura, che ne so, Cromwell. Cosa ti dicono a te i puritani? Io non so puritano, però la gente sarebbe fai cazzi sui. Martinelli? La rivoluzione inglese è la numero uno. Lo vedi, c'è un abisso tra di voi, ti devi impegnare di più. Martinelli, andiamo.